Io non so se in politica esista la categoria della volontà come diceva il professor Mastino ma certamente quella era una stagione in cui i protagonisti erano capaci di grande rotture ma anche poi di grandi mediazioni. In realtà è già stato corretto dal professor Mastino di Giunte del Rio ne ha fatto quattro, non tre, ma una in verità ha avuto un brevissimo periodo perché il bilancio venne bocciato in commissione con il voto contrario dell'onorevole Sultu e dell'onorevole Broicche che qualche giorno dopo alla vigilia di Natale vennero sospesi dal gruppo per sei mesi. Se ci fosse stato già il presidente Renzi li avrebbe sostituiti, avrebbero risolto così il problema. Però devo dire che a proposito di rotture che poi seguivano le mediazioni, le riconciliazioni che quando il presidente Sultu ha dato vita alla prima giunta di unità autonomistica nel 78, il presidente Medrio che era già ormai parlamentare e quindi in qualche modo lontano dalla... lui appoggiò fortemente quell'iniziativa dell'onorevole Sultu. Non so se lei me la conferma. Chiedo scusa per il tempo che dovrò ancora chiedere, per la pazienza che è necessaria. Sto parlando da più di due ore e credo che... Io ho saluto molto cordialmente lo signore del Rio e i figli e... faccio con molto affetto perché al di là delle cose che ha ricordato Mastino, io e Giovanni eravamo molto amici. Fino agli ultimi giorni nella sua pista, eravamo tanto amici, che lo dico con un po' di imbarazzo e con un po' di... Che ero mio, che mi è stato ricordato... Era molto dolore il giorno, e andava ammessa tutti i giorni... Ogni volta ci sentiva il mio telefono e diceva... E prego anche per te... C'era anche un'altra ragione di amicizia che dicevo al parco... Che è di natura familiare, la mia famiglia... Dio ha preso uno Dio, ingegnere, salessiano, scaratoncio, quando i soldi... Dovretutto chiamavano ingegnere... Ed il Dio era pregato a questo mio Dio paterno, il mio padre... Molto più di quanto è possibile... E era posterato a quasi un padre spirituale in qualche vissura... Venne al vulnale... Da un sottu... Per portare la para... In piedi... C'era un rapporto... Era un uomo di questo tipo del rio... Ma io non ricordo... Tutte le cose che sono state ricordate oggi... Così bene... Quelli che mi hanno preceduto... Perché... Io con l'arte... Il dono che... Ho fatto alla natura... Per noi che siamo cristiani... Dal creatore... È che io possiedo... Una sorta di gomma... Mentale... Che cancetta... Ancetta le cose... Congiunturali... Le faccende che... Che si bruciano nel tempo in cui avvengono... Che hanno una logica... Contingente... Che possono avere valore in quel momento... In quel momento in cui avvengono... Ma che non hanno... La forza... Della durata... La permanenza... Della resilienza... Come si dice oggi... E parlando del Rio... Più che parlare di questi piccoli fatti... Piccoli e grandi anche fatti... Che abbiamo vissuto contrapposti... Spesso... Anche più spesso... Anche più spesso... Dalle altre... Io ricordo... Il panorama generale... Il clima... L'oggetto della politica... Le ragioni per le quali facevamo politica... La passione che muoveva gli uomini... A fare politica... E che si aggiungeva... L'appassione... Di tutti coloro che li seguivano... Perché poi... Seguivano... Perché alcuni seguivano... Carta... O Legger... O Mura... Sono qui presenti... O seguono oggi... Per interesse soltanto... O non c'è forse dentro... Un'anima politica... Uno spirito dell'uomo... Che... Capisce... Che la politica è la più alta manifestazione... Nel luogo... Perché sia fatta... Bene... Perché abbia anche ragioni... Profonde... Di azione... Perché la politica sia insieme... Ragione... E passione... Non solo passione... E neanche solo ragione... Di qual'era la politica... Di quel tempo... Di quel tempo... Di me... Gli anni... Non sono molti di differenza... Sono cinque... Sono cinque... Molto importanti... Perché... C'è stata la guerra... L'arrivo... Già... Adolescente... Il popolo italiano... E' stato... Il popolo santo... C'è stata... L'autonomia regionale... Io appartengo... Alla generazione successiva... Quella che è... Comparsa... La politica... Quando... Alcune di queste cose... Erano già in parte... Innebolite... Erano già in parte... Nesse discussione... Soprattutto... Ostatutto... Era già allora... Considerata... L'autonomia... Un elemento insufficiente... Non... All'altezza... Di risolvere il problema... Del popolo santo... E la storia... Quindi... Il rio... Coincide... Con la nostra storia... Con la vostra storia... Con la storia della Sardegna... E' sbagliato per me... Isolare... Il nuovo politico... Della... Refattura... Del rio... Dal... Complessivo... Avvenimento... Ai complessivi avvenimenti... Che hanno caratterizzato... La storia della Sardegna... Il giudizio... Su del rio... Ma dato... Giudicando quella storia... Nel suo complesso... Non i singoli... Avvenimenti... Il libro che ha ricordato... O... Ocanzi... A Tire Mastina... Un libro che ho promosso io... Il centro studi del Toro... Per coprire... Una carenza... Della storiografia sarda... Che non cita mai... Le fonti del consiglio regionale... Mai... Le fonti della giunta regionale... Non c'è un libro... Sulla storia della Sardegna... Che abbia l'elento... Del presidente della ragione... Che citi le parole... Del presidente della ragione... Questo è il tutto vero... Che ha la storia della Sardegna... E noi cerchiamo di colmare... A quali erano le passioni... Di quel periodo... Dei cattolici... Dei democristiani... I sardisti... Dei comunisti... Dei socialisti... Quelli che facevano la politica a loro... E' stato ricordato qui... Anche... Un documento che... Che... Ho... Fatto un lungo articolo su... L'ortopena... Poco... Che ho stimolato da Matteo Martello... Perché... Circola... Una leggenda... In Sardegna... Che dice che... L'ultimo pugno di terra... Era un documentario... Un film... Molto bello... Di grande... Qualità poetica proprio... Che descrive la Sardegna... Negli anni 50... Fatto da Fiorenzo Serra... Mio con il suo amico... Comentato da Brigaglia... E da Pisani... Miei carissimi amici... Quindi non poterla essere... Giudicato da me... Negativamente... Chi di voi ha visto... L'ultimo pugno di terra... Circola... In un'edizione... Nell'Issu... L'ultimo pugno di terra... E' la Sardegna... Già il titolo... Che nasce... Da una vecchia leggenda... Per cui la Sardegna... E' l'ultimo pugno di terra... Del pianeta terra... Con l'impronta... Del creatore... E' il piede... Del creatore... C'è la barbage... C'è un assassinato... Su un carro a voi... Trasportato... Come qualcuno... Il più anziano... Si ricorderà... Come trasportavano allora... I morti... In campagna... Assassinati... C'è la transumanza... C'è un ballo di agnelli... Bellissimo... Una cosa straordinaria... Oh poesia... C'è il carro... C'è il carbone... C'è l'immigrazione... C'è tutta la Sardegna... Sofferente... C'è... E' la condizione... In la quale noi avevamo... Di... Arretrattezza... Di accantonamento... Di miseria... Di disoccupazione... Di immigrazione... Di massa... C'è la Sardegna... Miserabile... Dal punto di vista materiale... Ma la Sardegna è in campo... Quel documento serviva... A dire ai Sardi... Guardate quello che siamo... Svegliate... Tutti... Alziamoci in piedi... Tutti... Lavoriamo... Tutti... Per il nostro... Destino... Perché il destino sia... Uguale a quello degli altri italiani... Perché noi non siamo più... I pezzi... I pezzi... Della terra... Perché noi non siamo più... Gli assistiti dal mondo... Questa era la funzione del rito... Poi abbiamo tutta la contraste... Abbiamo anche... Lui ha contrastato me... E io ha contrastato lui... Del Rio e la DC... Cos'era la DC... Amici che siete qui... Che avete editato la DC... La DC era un grande... Un momento di popolo... Come ha ricordato... Il Presidente della Repubblica... Il mio amico Mattarella... Era un partito... Popolare... Democratico... E antifascista... E Del Rio era... Un uomo... Popolare... Democratico... Antifascista... Ispirato... Alla roubina... Sociali... Cristianistica... noi non siamo questi ma c'è anche la lotta di potere c'è la lotta di potere ma c'è anche nella Chiesa c'è anche ad alcuni, avete visto cosa sta succedendo a parte, forse è una situazione intorno alle linee innovative di Papa Francesco, c'è lo fungo c'è nei condomini, c'è in qualsiasi il luogo dove si confrontano gli uomini perché c'è anche il potere nella vita del uomo ma era un potere educativo e c'è qualche differenza da oggi io ero un seguito popolare aveva un consenso era un rappresentante accettato voluto bene, amato seguito era più facile io dico sempre fare politica allora al di là dei problemi drammatici che avevamo era più facile di oggi perché c'era un quadro di rinforza di me perché quando io facevo una cosa quando Giovanni del Rio decideva una cosa sapeva che dietro di lui c'era il consenso di quelli che l'ha presuntato lo sapeva fare non c'era bisogno di consultare ogni giorno attraverso i cinquecchio dei telefonini e mandare messagini a chi è questo e a quello perché la fiducia nella politica l'adesione alla politica l'informazione politica dei militanti era fatta quotidianamente dai leader i leader sapevano qual era l'interesse generale qual era il bene comune qual era quello che la gente si aspettava qual era la politica che ha fatto io ricordo tre o quattro immagini delle mie in particolare le ho tante ma tre o quattro una è stata ricordata da Romano Cannas esordio la Presidente della Regione Del Rio ha nominato Presidente della Regione non è contro la politica dei lettori non capisco queste interpretazioni ma stimo è la continuazione della politica contestativa è la continuazione semmai l'accentuazione di quella politica contestativa Del Rio chiede di fare un messaggio radiofonico al popolo santo e gli viene impedito dal Ministero degli Interni non da un direttore da Rai di Cagliari ma dal Ministero degli Interni perché il Ministero degli Interni lo dice lui in un'intervista fatta l'articolo che spiega sul Presidente lo ricorda ma ciò fa gli esordisce la sua intervista è questo modo che a lui è stato impedito per motivi di ordine pubblico di turpatire dell'ordine pubblico di parlare ai no di Sardegna a proposta cosa fare del Rio trasforma il messaggio tralifonico di manifesto e dice ai sindaci della Sardegna convocate tutti i consigli comunali alzatevi siate responsabili prendete voi in mano il nostro destino fate quello che un popolo deve fare alzarsi orgogliosamente e affermare che la solidarietà è sua non è un passaggio a poco e la seconda cosa che ricordo mi hanno fatto ricordare anche il giudice di Pepe Mura che sono qui davanti è una riunione del comitato provinciale di Nuoro che era vicino e la poltia non era lì a C però è stato ricordato la riunione della segretaria regionale che lui è stato nominato presidente della regione con il riunione segretaria regionale ma c'era la sollevazione della zona di Pepe e non ce ne siamo dimenticati a Sardegna era un vulcano in esplosione io con Del Rio sono dato in molti comuni a parlare a fuo al pubblico dai baltoni come è stato letto per dire e noi siamo su questa linea dovete accettare e darci il tempo per fare quello che si deve fare e come è stato a pronunciare la decennuolo convoco Del Rio e convoco me perché ero se sono all'industria e andiamo insieme e lì è anche ottana praticamente è anche il disegno dell'emancipazione della zona interna poi quasi che non si è andato a compagni quasi che la storia del mercato la evoluzione della produzione industriale tutto in serie di casi abbiamo concorso per far far dire in qualche misura per rendere quasi diciamo quasi minima l'effetto dell'industrializzazione però per dire cos'era allora la vita di partito e cos'era allora la partecipazione della base ottana non acqua nel chiuso della giunta della giornata e ottana un'acqua nel campo aperto del confronto dentro i partiti nel campo aperto del confronto degli scaccati nel campo aperto delle zone interne della rivedicazione delle zone interne di partecipare a pieno titolo completamente al piano di Nacchi tutto questo non è che poi sia facile farle le cose come qualcuno pensa ma si devono dire si devono praticare si devono fare il possibile attraverizzare ma quella cosa è la terza immagine è nel rio che nel sagrato di Santa dallo sfido passasse con memora per tutto 15 giugno per 1975 in piena giornata del Torano dopo la vicino andò bene andò bene il partito comunista con il franzione non c'è non c'era di vicino non c'era di vicino non so se c'era così c'era 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 tanta gente che poteva comungerare il Toro la vicino è rappresentante della regione come tale oltre che come me come rappresentante del popolo Sartre come voce di tutta la Sardegna commemorò il Toro per rivendicare a quella classe politica dei cui uno dei maggiori rappresentanti era morto ancora non ancora cinquantenne i medici di quando avevano la rossa per rivendicare a tutta la classe politica impegnata in quegli anni su un fronte molto difficile quello che loro facevano rivendicando fin in fondo la dignità e l'operato della regione e cosa voglio dire con questo che do a tornare a queste razioni che se la gente non va a votare e se ne abbiamo poco a voi a tutti perché la politica non riesce più a dare risposta alle domande che gli facciamo che sono domande difficili che non sono più guidate dalle grandi narrazioni dei partiti dialogici che non hanno alle spalle più paesi comunità compatte famiglie compatte che hanno una società disgregata che hanno a che fare con domande molto complicate e spesso contraddittori noi non siamo più a tempo per avere un nuovo anno non abbiamo più il compito di emancipare le masse esclusi non abbiamo neanche più il compito di trovare le donne la parità di fare tutto quello che è stato fatto di cambiare la società di renderla più giusta di dare diritto a tutti all'istruzione della salute della sicurezza della pensione di tutto quello che abbiamo costruito con la Costituzione di tutto quello che è nato nei principi fondamentali della Repubblica e dell'autonomia la domanda politica che viene oggi è ancora di giustizia di libertà di uguaglianza di parità di inclusione di lavoro di salute ma senza diventare il portaboccio del Pontejo ma chi è? che è un po' più sensibile di noi e anche meno coinvolta il pegue il piane che guarda più lontano l'ultima enciclica del fatto riguarda la vita del pianeta e al tempo tocca la sopravvivenza pone dei problemi a noi che sono quelli di diventare responsabili della nostra stessa sopravvivenza e dà alla politica quel quadro di riferimento generale quell'ancoraggio di valori quella gerarchia che guida la nuova domanda di senso della politica la politica non è più soltanto arricchimento non è più soltanto guida finanziaria non è più soltanto potenza delle banche del mercato e anche vita soltanto vita controllata non sfruttamento riscubinato di risorse non consumi che non finiscono mai non pretesi di avere quello che si può avere ma di essere responsabili io sono convinto e chiudo e se io fosse qui e se potesse esprimere la propria posizione rischierebbe su questa vita contribuirebbe per quello che possiamo fare noi a dare una mano a questa regione autonoma del Sardegno a ridare coraggio agli stati fiducia speranza orizzonte futuro noi dobbiamo chiudere l'esperienza di cui del rio è stato uno dei protagonisti noi dobbiamo guidare un'epoca e dobbiamo apprendere un'altra e quest'epoca nuova ha bisogno del giovane ha bisogno di persone che come del rio a 28 anni prenda la macchina la politica prenda la guida la politica e rapporti verso i due orizzonti di oggi quelli che oggi dominano il nostro bel tempo con quelli che oggi sono nella mente dei vostri ragazzi di quelli che devono ancora camminare nella vita non di quelli che l'hanno consumato questo è il messaggio che io credo possa dire per come ho vissuto con lui tante vicende e assomigliando diciamo cercando di paragonare il nostro tempo con quello di oggi che le cose non nascono assunti ci vuole qualcuno che indichi la strada voi guardate il telegiornale della Rai alle 2 io sto guardando qua tutti i giorni il telegiornale la Rai è un bollettino giudiziario carabinieri guardia di finanza uccisioni ufficini processi tribunali non c'è mai la politica non c'è mai la politica io non dico che la politica deve fare la scena come fare ma che la politica sia stata cancellata totalmente cancellata dal telegiornale della Rai dal servizio pubblico è il segno di cosa sia oggi la politica io ho detto al Presidente a come fare e a quello che consiste a come fate a pensare che il popolo sardo accetti vi assista vi sostenga seguo seguo le vostre posizioni seguo i vostri programmi se non c'è una parola se non parla il Presidente di chi deve parlare io i libri i discorsi che sento non fare noi chiediamo alla politica io mi sento di poter dire anche come essere quando forse qui che riprenda questo luogo che combatta la nuova battaglia di cui dobbiamo che dobbiamo fare che interpreti di questo sentimento nuovo che c'è in Sardegna di una nuova stagione di una nuova dinastica se vogliamo chiamarla così di un tempo che ci veda dentro il processo del posto moderno dentro il posto industriale dentro una nuova dimensione una dimensione di libertà di dignità e di uguaglianza e questo è ancora il messaggio che ci viene dall'amico scomparso che ricordiamo grazie a tutti grazie